E un profondo rosso sotto tutti i punti di vista, quello che attanaglia la regione Abruzzo. Settori fondamentali come sanità, economia e sociale un anno dall'inizio della pandemia sono ancora in una fase critica. A denunciare quella che definiscono la situazione grave che si vive in Abruzzo sono il capogruppo del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi e i consiglieri smargiassi, pettinari, fedele e taglieri. Dopo quasi un anno di inerzia, affermano è il momento che il presidente Marsiglio e l'assessore Veri smettano di scappare e diano risposte certe agli abruzzesi. Quali sono queste cinque domande al presidente Marsiglio? Il presidente Marsiglio continua a dare la colpa al governo nazionale, in realtà le responsabilità sono tutte regionali. Le domande riguardano il fatto del perché l'Abruzzo sia in profondo rosso e cioè sia la regione con più giorni passati e trascorsi in zona rossa, quando sarà pubblicato un calendario delle vaccinazioni, quando intenderanno attuare una campagna di screening di massa attendibile, quindi o con test molecolari o avvisando le persone che i test rapidi possono sbagliare, possono dare un falso risultato, quando saranno pagate tutte quelle imprese, quando arriveranno i ristori a tutte quelle imprese che lo chiedono da aprile dell'anno scorso, cioè con l'approvazione del Cura Abruzzo 1. Tutte domande anche relative all'impiego dei milioni di euro che sono arrivati dal governo, cioè i 60 milioni di euro di contributi del governo, che fine hanno fatto? Perché non vediamo le assunzioni di personale che erano state promesse e non vediamo implementazioni delle infrastrutture, e cioè sia il Covid Hospital di Pescara, sia l'ospedale di Chieti, ma in generale tutte le strutture della nostra regione sono in sovraffollamento, sono sovraccariche e con scarsità di personale. Infine conclude Sara Marcozzi. Sono dovute arrivare inchieste delle varie procure della Repubblica per svegliare anche il Presidente di Regione o alcuni sindaci a prestare una maggiore attenzione ai controlli. Io controlli prima delle ultime inchieste, così serrati, con posti di blocco, multe ai cittadini, non li avevo mai viste.